E niente Laura, è un terzo coppio, anche quando si trova, si trova, si trova, si trova, si trova, e si trova, 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 e per Laura, adesso vediamo il suo tempo, il tempo di Laura, si trova, comunque per questa per l'aria di Buonardo, 1 ora 55 e 57 secondi per Laura. Grazie.